Con i loro cestini di peri, i volontari Abbio saranno presenti anche a Caltanissetta, così come avverrà in oltre 150 piazze italiane. Si celebra anche nella cittadina nissena, in corso Vittorio Emanuele, la giornata nazionale Abbio, sabato 24 settembre. Un'occasione per parlare dell'attività che l'associazione, in città dal 2014 come gruppo in tirocinio e poi diventata ente autonoma nel 2021, svolge nel reparto di pediatria del presidio ospedaliero Sant'Elia. Siamo lì semplicemente per rendere il periodo di degenza un po' più umano, un po' più a misura di bambino, cercando in qualche modo di rendere meno forte l'esperienza in ospedale. I bambini sono costretti in quel momento a ricevere delle cure, non possono dire no e la nostra presenza in qualche modo può supportarli se loro vogliono e possono dirci anche no. Diciamo che siamo le uniche figure alle quali possono dire no, noi non vogliamo giocare, no, non vogliamo far nulla. E anche questo è fondamentale per il loro benessere. Quindi cerchiamo di umanizzare, di dare qualcosa in più al reparto di pediatria, che già è una bella eccellenza, i medici, gli infermieri, tutto il personale. Insieme cerchiamo in qualche modo di dare una mano, facciamo davvero sistema all'interno del reparto. Investiamo molto in informazione proprio per garantire quella sicurezza, quella delicatezza, quella entrare in punta di piedi il reparto, di collaborare con tutto il personale, ma soprattutto di essere da supporto alle famiglie e di aiutare i bambini, di stare lì e giocare con loro. Per cui domani la giornata nazionale serve a dare supporto concreto alla nostra attività in reparto. Abbiamo sostenitori storici, però benvengano anche tutti gli altri. Sarà dunque un modo per far conoscere la realtà dell'associazione che non si è fermata neanche durante la pandemia. Grazie alla nostra presidentessa, che è Enza Villardita, e a tutte le altre volontarie. Mi viene in mente in questo momento Teresa Giallongo, che sono le due che più attivamente, devo dire, sono state caparbie e hanno portato il reparto, fatto avere il reparto, dei kit d'accoglienza, che in qualche modo hanno, e poi anche attraverso la nostra pagina Facebook siamo riusciti in qualche modo ad essere un po' presenti, proponendo delle attività, qualcosa da fare.